La fede, dunque, è quella luce che ci permette di accogliere Gesù come unico rivelatore del Padre. È Lui che ci mostra il volto del Padre. È attraverso di Lui che noi concretamente possiamo sperimentare l'amore misericordioso del Padre. E quindi credere in Lui significa sperimentare e imboccare la strada della salvezza. Carissimi fratelli e sorelle, anche oggi ci rendiamo conto di aver bisogno di questa luce, di riconoscere che Gesù è la luce del mondo. Invochiamo allora il dono dello Spirito Santo e invochiamo anche l'intercessione della Vergine delle Grazie e di San Pio da Pietrelcina, perché anche noi impariamo sempre di più nel nostro quotidiano a camminare in questo mondo come figli della luce e a rendere la nostra bella e credibile testimonianza di fede in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, Signore e Salvatore nostro. Così speriamo e così sia. Grazie.